Los Uri e Angelo Bertucci, in occasione del cinquantesto anniversario del loro quadrimonio. E mentre la estende ai familiari e agli amici, invoca su di loro speciale posizione di grazia e celestia che ingustino sempre più la gioia della fedeltà e della pace e continuo a sacre buona e testimonianza a Cristo. Celebrazione 4 di San Magno, che è posciata il 2 gennaio del 1922. La domanda è la sera apostolica, questa è la benedizione del Papa, che mi ricordo di ovviamente. E ora la benedizione. Il Signore sia con voi. Viva la Dica, Dio, Oggi Potente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amore. Ringraziamo anche quelli che vi hanno fatto dei belli canti, vi hanno integrato la nostra relazione. E poi, nel nome del Signore di Ombra, facciamo anche un applauso agli stagini. Applausi. 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 Applausi.